Katrin, sei niente! Ah, che... Come sai, lavoro solo io in famiglia e abbiamo appena avuto il secondo figlio. Penso sia ora di un aumento. Non posso dartelo. Sarebbe come dare un aumento a un drogato. Stai paragonando mio figlio a una droga. Sei licenziato, ovviamente. Oh, immagino che tu sia McCary. Oh, wow. Sei licenziato. Sta tornando. Sta tornando. Sta tornando. Spinger me. Ti sei ricordato di... Dove ho messo il dossier che mi ha chiesto? Non ho la più pelli di idea di chi siate. Sono Tom. Io scrivo i monologi. No, no, non ha importanza. Dov'è John? John è morto nel 2012. John è morto? Vuoi scherzare? Lo show non va bene. Io so perché. Dobbiamo assumere una donna. Ma tu odi le donne? Io non odio le donne. Ok, trovami una che valga la pena tenere. I miei sogni ho steso sotto i tuoi piedi. Cammina leggera perché cammini sui miei sogni. Oddio! Un gay va bene lo stesso. Tu chi sei? Mi chiamo Molly, sono la nuova autrice. Allora, vuoi sederti? Oh, userò questo cestino della spazzatura. È praticamente vuoto. Ah, che comodo. Meglio di una sedia. Devo dirti che questo è il tuo ultimo anno. Cosa? Non possono rimpiazzarti se tutti ti amano. E' la persona meno compassionevole del mondo. Ma ucciderei per farmi notare da lei. Ho bisogno di te, Molly. Ho bisogno della tua invadenza. Del tuo essere senza limiti. Lei mi ama. No, non ho detto questo. Voglio dire, non in quel senso, ma lei... No, ti assicuro, in nessun senso. Allora...